Buongiorno Corriere, oggi è venerdì 3 settembre, le notizie di questa mattina da Giuseppe Recca in studio. Situazione Covid in provincia, da due giorni i guariti risultano in numero superiore ai nuovi contagi, ciò consente un lieve calo della curva epidemiologica, il report dell'ASP di Agrigento registra 62 nuovi casi e 126 guarigioni, ci sono anche e 4 decessi nelle ultime ore, non ci sono persone attualmente in rianimazione e poi 1.673 contagiati in totale, di cui 57 ospedalizzati. Il risarcimento di quasi 200.000 euro per una famiglia di Sciacca nel 2017 rimase coinvolta nei disordini che si sono verificati in piazza San Carlo a Torino durante la proiezione su un maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid lo ha disposto il Tribunale Civile di Torino nell'ambito di uno dei tanti procedimenti giudiziari scaturiti da quel drammatico episodio. Le persone risarcite sono Sergio Nucci, insegnante di Sciacca che da alcuni anni lavora in una scuola di Chivasso nel Torinese, la moglie e le due figlie all'epoca minorenni. Continuano le manifestazioni di solidarietà a sostegno dell'associazione Agape che ha ricevuto dall'aspe di Agrigento il sollecito a lasciare i locali dove la Onlus opera. L'associazione dell'altra Sciacca ritiene lo sfratto una scelta poco felice e si unisce al coro delle associazioni che hanno già manifestato il loro supporto alle famiglie. Anche il Comitato Civico per la Sanità è solidale ma dice che non si di uno sfratto. Ha inviato una lettera al commissario Mario Zappia per considerare in ogni suo risvolto la questione dei locali, Zappia oggi sarà a Sciacca. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento Stefano Zambuto ha condannato al pagamento di una multa di 13.600 euro Ferdinando Shabarrà, 73 anni, che ha sempre sostenuto di essere proprietario della Scala dei Turchi, scogliera e sequestrate il 27 febbraio dello scorso anno. Si conclude quindi l'indagine penale per l'occupazione di suolo demaniale, violazione in materia di sicurezza e tutela dei beni ambientali. C'è sempre il mare, il titolo del libro di Domenico Rossello che va rappresentato questa sera alle ore 19.30 a Sciacca nel consueto appuntamento settimanale con il salotto letterario San Marco Restart, ospitato presso il resort Bono Vacanze della rinomata località turistica di San Marco e organizzato dal Comitato Provinciale ASI. Si tratta dell'esordio letterario di Rossello che è giornalista del quotidiano La Sicilia. Calcio Lunita si sciacca nel corso di una conferenza stampa ieri pomeriggio allustrato i dettagli della campagna abbonamenti che scatterà lunedì prossimo in vista del campionato di eccellenza 2021-2022. Il presidente del sudalizio Gioacchino Settecasi ha riferito i dettagli di un abbonamento che tiene conto dei limiti imposti dalle norme anti-covid per la presenza di pubblico negli stadi. Un abbonamento che si può fare online ma anche recandosi nella sede dello stadio. I costi sono i seguenti. Tribuna centrale 150 euro, tribune laterali 120 euro, gradinata centrale 100 euro, gradinata laterale 70 euro. È tutto appuntamento a più tardi per le altre notizie del giorno ma restate su Corriere di Sciacca.it per rimanere sempre aggiornati.